Nicola Baiocchi in questo 26 settembre Fratelli Italia risulta il primo partito d'Italia come consenso in una condizione di centrodestra che ha vinto nel paese. Fratelli Italia che addirittura ha avuto cifre superiori sulla regione Marche, diciamo così dando anche continuità a quello che è il governo regionale, risultati importanti anche nella provincia di Pesaro. Che valutazione dà questi numeri? È una valutazione molto positiva, chiaramente anche il dato regionale è molto incoraggiante perché va a premiare tutto quello che è stato fatto in regione in questi due anni, sono dati indicativi ma molto veramente molto belli, molto importanti perché premiano l'impegno del nostro presidente Giorgio Meloni e di tutti i militanti, di tutti coloro che hanno sempre creduto in questo partito come noi anche a Pesaro quando abbiamo iniziato eravamo solamente al 2% adesso ci ritroviamo nella città di Pesaro al 25%. A pochissimi voti deve essere il primo partito della città. Il fatto di avere una continuità tra nazione e regione è molto importante per lei che lavora nel Consiglio regionale. È assolutamente importante perché ci sarà questo questa cinghia di trasmissione come abbiamo definito in questi giorni tra la regione e la regione Marche e il governo e il governo della nostra nazione. Poi sono state a suo avviso le chiavi di questa vittoria che sembrava comunque nell'area però poi serve serve c'è tutta una campagna elettorale di mezzo ci sono tante variabili ma sono state rispettate le attese? Sì sono state rispettate le attese, i sondaggi hanno riportato sostanzialmente quello che poi è venuto fuori dal risultato delle urne ma ha pesato sicuramente l'impegno di tanti militanti sul territorio, di tante persone che hanno creduto e credono in questo partito, che hanno voluto dare il loro contributo per far crescere questo partito in maniera esponenziale. Lei possiamo definirla un militante di Fratelli d'Italia della prima ora. Al tempo era un sogno, un'ambizione arrivare a questo risultato? Come la possiamo definire? Al tempo era un sogno ma noi ci credevamo, siamo sempre stati ottimisti, non abbiamo mai guardato le percentuali, abbiamo sempre lavorato sui territori in tutta la provincia in maniera molto importante cercando di crescere, cercando di far diventare questo partito il primo partito d'Italia.